buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv cominciamo subito la nostra trasmissione a partire dall'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi eccolo il santo e sant'adriano di cesarea uno dei santi così più importanti dei primordi del nostro cristianesimo e vediamo anche le previsioni del tempo oggi abbiamo un tempo diciamo così discreto o c'è un cielo sireno dopo le nubi della giornata di ieri dopo le prime spolverate di pioggia che sono veramente salutari per i nostri campi dunque c'è un avvio di giornata discreto sulle marche ma nel pomeriggio però si formeranno nuovi fenomeni i tempo laranischi sconfinando dalle zone interne verso la costa il vento sulle coste rispira da ovest nord ovest mentre nell'interno da ovest sud ovest le temperature le temperature un'escursione termica piuttosto importante rispetto ai giorni scorsi 8 la minima 17 la massima non fa molto freddo ebbene il mare è mosso mentre il sole è sorto alle 6 41 e tramonterà alle 18 02 questo l'inizio della nostra trasmissione ora possiamo aprire i giornali a partire dal corriere adriatico questa mattina che apre la pagina di fanno con la esposizione del manifesto programmatico che il centro sinistra ha fatto ieri in una sala pedinotti a palazzo martinozzi veramente gremita di gente e sono stati tanti curiosi che hanno voluto così conoscere i programmi di questa coalizione che si presenta alle prossime elezioni amministrative primarie il nostro tratto distintivo hanno affermato un rapporto diretto con i cittadini ebbene le primarie che sono state scelte dal centro sinistra come un dato distintivo rispetto agli altri partiti sia rispetto al centro destra che rispetto ai progressisti costituiscono una veste particolare di questa coalizione ed è significativo perché è indice di un rapporto diretto con i cittadini un rapporto diretto che si trasforma anche in previsioni programmatiche grande attenzione ai quartieri non soltanto in senso urbanistico ma anche in senso sociale così come è stato ribadito da tutti quattro i candidati ebbene i candidati lo sappiamo tutti ieri erano tutti presenti in questo incontro in questa in questo convegno si è partiti da etienne lucarelli che rappresenta la nuova formazione politica di noi civiche poi c'era ovviamente il vice sindaco dell'esponente del partito democratico cristian fanesi samuele mascarin che delle primarie è stato il promotore per quanto riguarda in comune e poi cora fattori di più europa presente insieme al presidente nazionale di questa di questa forza politica ovvero federico pizzarotti e c'era anche il sindaco oltre al segretario del partito democratico renato claudio minardi poi c'erano anche altri assessori ovviamente esponenti politici persone note che ovviamente volevano sentire tutti i risvolti programmatici di questa forza politica ebbene qualche qualche informazione qualche impegno assunto dai candidati vediamo che in senso urbanistico cristian fanesi ha così detto che si riprenderà il dialogo per ottenere la caserma paolini così come la definizione storica del vittorio a colonna e soprattutto anche una definizione per rilanciare l'ex zuccherificio sono queste qua sono tre quei sono queste tre macro aree che erano definite le aree problema ma anche aree risorsa già dai tempi di qualche amministrazione fa insomma qualche decennio fa e sono rimaste tutte e al palo e poi si è parlato anche della rivitalizzazione dei quartieri già attuata con il bilancio partecipato ma dovrà essere perseguita anche con l'istituzione dei consigli di quartiere obiettivo questo che non è stato raggiunto in questa fase amministrativa ma che sarà perseguito anche nella prossima insomma un programma composito che ha così interessato diversi aspetti della vita pubblica quello della cultura quello soprattutto della socialità della condivisione con i problemi dei più deboli dei più fragili questo ovviamente è un tema che caratterizza un po tutti i partiti tutte le coalizioni che si preparano ad affrontare le elezioni amministrative e poi vediamo a fondo pagina del Corriere Adriatico la presenza di Federico Pizzarotti a Fano torna per la settimana capitale Federico Pizzarotti era stato sindaco della città di Parma ai tempi in cui Parma era stata proclamata capitale nazionale della cultura e il suo attivismo e aveva fatto scuola insomma era venuto anche a Fano quando Fano aspirava a diventare anche questa città capitale nazionale della cultura ora lo è in relazione però a Pesaro questa settimana in modo particolare molto attiva di iniziative ce ne sono tantissimi di diversi tipi ambientalista di culta di tipo culturale di socialità insomma ce ne sono veramente tante ma Pizzarotti era stato un po un punto di riferimento questa volta viene ai fini elettorali perché sosterrà la candidatura a Cora Fattori che è la responsabile di più Europa Federico Pizzarotti anche presidente nazionale di più Europa e gli ha assistito alla corte malatestiana al montaggio di una struttura che servirà come luogo di laboratori per tutti i bambini questa settimana ma anche oltre fino alla fine del mese vediamo le altre notizie accoglienza e sorveglianza tre luoghi affidati a opera opera è una società di urbino che opera anche a Fano ha ottenuto dei grandi risultati nella gestione della rocca malatestiana ed ora si prepara a gestire altri tre importanti luoghi di riunione la rocca l'ex chiesa di San Francesco e la sala della cultura appena inaugurata nella sede dell'ex tribunale a Palazzo Nolfi in via Arco d'Augusto sempre più presente dunque nella vita cittadina questa cooperativa che ha ottenuto un buon successo e quindi sfrutterà questo suo know-how anche per fornire servizi di supporto all'ufficio della cultura con il suo personale con la sua esperienza e soprattutto anche con la sua intraprendenza. e poi a fondo pagina abbiamo una replica una replica a quanto aveva dichiarato l'ex deputato della Lega Luca Rodolfo Paolini in merito alla posizione degli autovelox a Metauriglia e a Cucurano Paolini diceva che quegli autovelox non erano posizionati nel modo giusto ma in un punto dove si facevano più multe e questo faceva sì che il Comune incassasse più soldi e quindi non era tanto per reprimere la velocità e per diminuire il numero degli incidenti ma come si dice per fare cassa. Ebbene questa tesi viene confutata da parte degli ambientalisti. La Faibe Fano Forbici dice ebbene i controlli sulla velocità lo chiedono i cittadini e chiedono ovviamente di non ridurre il numero degli autovelox e di lasciarli dove sono perché insomma i controlli stradali sono giusti e sono opportuni in quel punto e poi lungo il rettilineo di Metauriglia ne sono accaduti veramente purtroppo di effetti drammatici di tutti i tipi e di tutte le entità. Ti faccio sciogliere dell'acido terrorizza un ragazzo e va a giudizio. Si tratta di un cinquantenne finito a processo con l'accusa di minacce aggravate. A presentare la querela è stata la sua ex compagna dopo la separazione. Ebbene secondo l'accusa l'uomo avrebbe minacciato lei e il figlio ripetutamente tanto che vengono contestati vari episodi tra il 2020 e il 2022. La minaccia pronunciata nei confronti del figlio della sua ex è veramente grave. Ti faccio sciogliere nell'acido e poi insomma lo minacciava vantando dei collegamenti con amici calabresi, insomma cose che insomma erano un po' io ti ammazzo, ti sparo, ti faccio sciogliere nell'acido dai miei amici calabresi. Queste sono le minacce molto molto forti fatte da questo ragazzo. Un appello da parte del vice sindaco di Fossobrone, Michele Chiara Belli. Non rimettete in gioco politici già bocciati. Chiara Belli si rivolge ai comitati che si occupano dell'ospedale. Sbagliato. Strumentalizzare, ha detto, l'ospedale è una struttura che supera i conflitti politici. È una struttura che serve tanto a destra quanto a sinistra quanto al centro. Quindi deve essere valorizzata nel migliore dei modi. Tirreno Adriatico. La tappa è una vetrina per 11 comuni ed è veramente lo sport uno dei maggiori attrattori di turismo nel nostro territorio. Dobbiamo dire che in questa stagione il nostro territorio vive una stagione felice per quanto riguarda lo sport. Sono molti gli eventi di particolare importanza che vengono organizzati nel nostro territorio. Ricordiamo la tappa di maggio del Giro d'Italia a Fano ed ora la Tirreno Adriatica da Sassoferrato a Monte Petrano. Un tracciato di 180 chilometri che coinvolge 11 comuni ed è scattato il countdown per la tesissima sesta tappa della Tirreno Adriatico che sabato da Sassoferrato porterà i ciclisti a Cagli, a Monte Petrano. La partenza è prevista alle 12 e l'arrivo intorno alle 17.15. Lunga 180 chilometri, non sono noccioline, con pendenze importanti. Si svolgerà interamente nei territori delle Alte Marche interessando anche la Valle del Cesano. Quindi gli appassionati di ciclismo potranno benissimo usufruire di una giornata interessante. Senigaglia. A Senigaglia abbiamo una ditta famosa che entra nel territorio. Si tratta di Prada. Lo shopping di Prada a Senigaglia, centro di alta Sartoria a Lecceciare. L'offerta della holding alla Fondazione Rossi, lavoro per almeno 80 persone, abbiamo deciso di vendere. Ebbene, qual è il senso di questo articolo? La notizia è questa. La sede dell'Exceciare, acquistata da Prada, sposterà la sua produzione a Senigaglia grazie appunto a questo acquisto. La vecchia fabbrica di altoparlanti, in strada Fortenuovo, tornerà operativa, ma comunque in una nuova veste, quella appunto di Prada. La holding dell'alta moda, che ha fatto un'offerta alla fondazione proprietaria di questo edificio, alla fondazione Maria Grazia Balducci Rossi, che se ne era giudicata nel 2021, comprandola ad una asta e quindi ora avrà un nuovo cambio di proprietario. E poi vediamo questo articolo che è squalificante, ma ve lo voglio mostrare lo stesso, perché, insomma, è significativo. Bisogna educare sia i giovani, ma anche qualche volta gli adulti e gli anziani. Orina e mostra i genitali fuori della scuola. Ragazzine sotto shock, il preside denuncia. È accaduto ad Arcevia. Un doppio strip di un sessantenne l'ha fatto due volte, davanti alle studentesse dell'Ipsia. L'esibizione seriale a processo, è l'esibizionista, insomma, che affronta ora il processo davanti al giudice. Probabilmente era sotto i fumi dell'alcol, era ubriaco quando ha mostrato, dopo aver urinato i genitali, a delle ragazze che erano in attesa, nella fermata dell'autobus, in attesa proprio del mezzo per tornare a casa. Ovviamente le ragazze sono rimaste scioccate, ma non sono state inerti, e hanno denunciato l'episodio alle forze dell'ordine che ora hanno agito e l'uomo è andato a processo. Vediamo anche le pagine di Pesaro. Il debutto della stagione è con il turismo sportivo, ma a pochi gli hotel aperti. Il debutto della stagione, dicevo prima, lo sport è un grande attrattore di turismo, anche per Pesaro, capitale nazionale della cultura, lo sport è uno degli aspetti qualificanti, uno degli aspetti che più vengono trattati, messi in evidenza durante questo periodo, però insomma tutto l'apparato ricettivo non è ancora pronto, siamo in bassissima stagione a ospitare tante tante persone, quante quelle che potrebbero venire per vedere e assistere a questi eventi. Con la Pasqua anticipata, poi, il meteo incerto, diverse strutture restano chiuse, gli organizzatori sono costretti a dirottare le comitive verso la Romagna, aprire un albergo in questo momento, quelli stagionali, è un rischio, perché poi i costi ci sono giorno dopo giorno, mentre gli arrivi e le presenze sono alquanto aleatorie. Comunque il fatto che ci siano degli eventi potrebbe indurre qualcuno ad anticipare l'apertura degli hotel. al momento comunque si fa riferimento alla Romagna. Auditorium Scavolini ideale per le convention aziendali, d'accordo alle associazioni di categoria come Confcommercio e CNA. Magari anche Fano avesse una struttura del genere per il turismo congressuale. Abbiamo piccole stanze, abbiamo piccole strutture, insomma non siamo attrezzati per questo genere di turismo che invece potrebbe così evolversi tutto l'anno, anche in bassa stagione, perché poi i congressi sono chiusi, quindi si fanno in ogni stagione dell'anno. Chissà che il nuovo palazzetto dello sport di cui ha parlato proprio ieri il vicesindaco Cristian Fanesi come previsione per la prossima tornata amministrativa non venga alla luce e possa servire questa struttura ad avviare il turismo congressuale. Intanto Pesaro ce l'ha ed è l'auditorium Scavolini appena inaugurato. Un pressing del Vescovo di Pesaro per riaprire la pieve di Candelara. L'arcivescovo sollecita il recupero ed è disposto a collaborare con un congruo investimento, una compartecipazione per aprire questa antica chiesa. Monsignor Salvucci offre il suo aiuto per i lavori più stringenti a Candelara. Don Cernuschi, il prete, che gestisce la chiesa e Monsignor Salvucci cercano ovviamente di fare del tutto, di tutto per riaprire questo antico edificio. Per Villa Caprile invece da restaurare ci sono dubbi su interventi e progetto. I professori universitari Salbitano e Urbinati criticano la provincia sul restyling dei giardini e ricordiamo che il professore Salbitano è uno dei maggiori conoscitori per quanto riguarda l'apparato del verde, il decoro del verde, la salubrità delle piante e quale docente universitario ed è stato uno dei consulenti più presenti anche nel nostro territorio per il parco dell'aeroporto, per tante altre situazioni dove le piantumazioni sono un elemento fondante del nostro vivere sociale. Fugge da casa in pigiama e ciabatte per scappare dal compagno violento, un altro caso di violenza nei confronti delle donne. Scatta il codice rosso, l'uomo di 55 anni è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate. Avrebbe assalito la sua compagna schiaffeggiandola tanto da farla fuggire di notte in pigiama così come si trovava con una ciabatta sì e un piede scalzo e poi chiedere aiuto in mezzo alla strada ai passanti perché si sentiva minacciata e in pericolo di vita. Bene, ora passiamo al resto del Carlino e vediamo l'apertura. Eccola qua, l'apertura si riferisce alla chiusura di un tratto di strada per un senso di un tratto di strada veramente importante quale è il tratto di via Roma che dal ponte storto a Fano arriva fino a Porta Maggiore. Un tratto di strada che ora implica una deviazione verso via Palazzi e che a causa del maltempo sarà la chiusura prolungata oltre alla settimana che era stata pronosticata. Lavori in via Roma partenza in salita slitta subito la chiusura del cantiere i lavori sono stati necessari perché l'ASET ha intenzione di rivedere tutte le tubazioni del gas sono iniziati ieri gli interventi disposti dall'azienda qualche disagio e qualche incolonnamento per la deviazione del traffico è stato è stata insomma di prammatica non si poteva evitare. intanto c'è una dichiarazione anche del presidente dell'ASET Paolo Reginelli purtroppo a causa della pioggia dovremo rivedere il cronoprogramma qualche giorno in più non molto non molto di più comunque la chiusura di questo tratto di strada per il senso che da monte va verso mare crea diverse difficoltà e questo viene evidenziato dal giornale. intanto si si così si chiede lumi sui lavori che dovevano essere compiuti nel sottopasso di via Nazario Sauro e sono le associazioni di categoria che dicono ma questo qui doveva essere pronto per Pasqua dovevano comunque i lavori che erano iniziati procedere tranquillamente invece dopo la prima demolizione del casello tutto è stato fermo perché è stato fermato tutto e questo non è stata data risposta Marcolini della Confcommercio area in degrado a Pasqua sarebbe stato bello presentare la passeggiata e si parla della passeggiata borghese che appunto dalla Darsena arriva fino al ponte della ferrovia e qui si ferma purtroppo perché poi ci sono le macerie del casello che è stato demolito anche il resto del Carlino interviene sull'incontro che ieri ha svolto il centro-sinistra centro-sinistra passerella dei candidati illustrato il manifesto programmatico puntiamo su salute inclusività accessibilità senza rinunciare alla crescita economica e sociale questo l'impegno di tutti gli esponenti qui gli vediamo i maggiori esponenti di questo incontro politico a partire dal segretario del PD Renato Claudio Minardi poi abbiamo Etienne Lucarelli Cristian Fanesi Samuele Mascherin Corafattori qui Federico Pizzarotti e poi il sindaco Massimo Seri in caso di vittoria ha detto Fanesi cercherò il dialogo con i progressisti cosa che non si è potuta concludere in maniera positiva prima appunto delle elezioni scuola Gandiglio a pezzi solo per interessi politici è un'accusa che lancia Fratelli d'Italia contro l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascherin avvantaggiati i quartieri dove ha il suo bacino elettorale afferma Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia insomma critica il nuovo dimensionamento scolastico che ha assegnato alcuni alcuni plessi scolastici come per esempio la scuola Gentile che apparteneva alla Gandiglio ad altri istituti e qui si dice ma insomma si sono privilegiati i bacini di voti i bacini di utenza che fanno riferimento all'assessore vogliamo sapere la verità dice il coordinamento scuola famiglia della Gentile e beh un dibattito politico che si fa a livello di supposizioni a livello di critiche critiche legittime ma che poi devono essere così verificate nei fatti l'altro pace inarrestabile ascesa pronti a espanderci a calcinelli la famiglia pace è una famiglia di imprenditori che opera in maniera molto molto importante nel territorio fanese ricordiamo la azienda che tratta l'alluminio nella zona industriale di Bellocchi ma c'è un'altra un'altra azienda che opera a calcinelli che forse si sposterà anche a Fossombrone l'amministratore delegato di Meccaal questo è il nome di quest'altra azienda fratello di Giancarlo Paci quello della Profilglas chiude il bilancio con 73 milioni e una crescita del 35% guardiamo pure al mercato americano ha dichiarato se accoglie al Metauro non ci vogliono a Fossombrone ci aspettano ebbene questa è veramente una famiglia di fenomeni perché qualsiasi cosa toccano si trasforma in lavoro diciamo prima di tutto e poi anche in soldi e quindi è una famiglia di imprenditori veramente efficace Giancarlo è l'uomo della Profilglas mentre il fratello è l'uomo della Meccaal un'azienda che si occupa di dissipatori di calore una tecnologia brevettata e unica al mondo lo spiega appunto Stefano Paci che è appunto il fratello di Giancarlo il nostro è un sistema particolare con il quale manteniamo costanti le temperature e questo permette di aumentare le prestazioni delle macchine anche di un 20% per esempio un ascensore che per una salita di diversi piani ci bada un minuto o due minuti ebbene con questo dispositivo ci bada molto molto meno e quindi c'è un'efficienza energetica molto importante e veniamo a San Costanzo dove si è svolta domenica scorsa la Sagra Polentara senza il sindaco il sindaco in realtà c'era ma non è stato invitato al taglio del nastro ebbene il sindaco si è un po' risentito Solcinei dice è stata una cosa svilente non per me come persona ma per il riguardo alla istituzione del comune che è un'istituzione di tutti e se si fa un taglio del nastro non può mancare il sindaco peccato ebbene il presidente della Proloco Calabresi si scusa ha detto che in quel momento aveva mille cose da fare e gli è passato di mente ma siamo in conclusione non posso procedere oltre anzi abbiamo passato i nostri termini per cui sono costretto a chiudere la nostra rassegna stampa ma ci risentiamo domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti Grazie.